Vi saluto da Napoli, spero che siete collegati tutti, cari amici, colleghi e nuovi ospiti. Allora per voi vorrei presentarvi un'azienda Skyward Community, perché personalmente io sostengo la compagna Skyward Community, sperandoli in un futuro amico, quindi questa compagna ci prospetta vita lunga e salute. E allora possiamo anche comunicare se siete tutti. E allora, salve chi non mi conosce ancora, sono Caterina, da Napoli, allora con le quali svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. E allora ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione in ambito medico, ho anche 18 anni di esperienza imprenditoriale e di esperienza, allora, nel settore delle vendite e dei servizi e anche sono un attracialista certificato di lingua italiana attuale. E allora, avendo esperienza di comunicazione, mi aiuto a portare un gruppo dirigente nell'economia di Skyward che si è sviluppato in Francia, Giorgia, Polonia, Spagna, Italia, Germania, con l'aiuto del mio team in solo due anni sono stati investiti oltre 13 mila dollari. In questa fase per oggi gli investimenti ancora stanno continuando e per oggi abbiamo la cifra più maggiore. Allora è tutto questo, è successo grazie alla comunicazione online. E allo stesso tempo, il suo sviluppo, in tempo in questa fase del suo sviluppo, l'azienda ha effettuato programmi di formazione certificati e attualmente le specialità più richieste e in cui il mio team è attivamente coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla. C'era solo un'idea e il grande e disinteressato lavoro del creatore di questo progetto. E oggi parleremo, ti presentiamo Skyward Community, un'opportunità di offerte commerciali. E il progetto di cui parleremo oggi è proprietà del signor Renatore Iunetzky con una storia di sviluppo dopo 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è stimato 400 miliardi di dollari. Ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. Lui stesso ha nato Iunetzky a già 73 anni ed è sicuro al 1000% che questo si riederà nel corso della sua vita. E lui non ha rifiutato a reale questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. Se è possibile chi siete collegati prima volta avrete ancora una domanda, ma in realtà che cos'è Skyway? Che trasporto è? Allora vi spiego che Skyway è un trasporto che si muove su rotaie ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyway di altri modi di trasporto. La struttura della linea Sky va su supporti che occupano poco spazio sulla terra e non influenzano l'ecosistema. I bacini idrici e foreste rimarcono idrati. Il trasporto Skyway è controllato da un'autopilota, ciò riduce il numero di progetti accidenti. E l'aerodinamica del trasporto Skyway consente di raggiungere velocità fino a 500 km. E anche la costruzione della struttura della linea Skyway richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. E ora dovresti chiedermi perché non usiamo un'auto ibrida? Ma io ti dico che quando carichi un'auto ibrida in pratica devi collecarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo a carbone o in un'altra materia e prima quindi crea la struttura. E noi stiamo partecipando in questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino del nostro pianeta e i costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente. E la produzione di energia è al minimo perché genera energia più sufficiente e non dipende alla centrale. E anche c'è un stabilimento di produzione, un centro di innovazione Sargemi dove lavorano 3000 ingegneri, istruttori e esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro transport con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia. In questo qualche anni fa già era anche incredibile 100 anni di garanzia allora garantisce la vita più assicurata. e allora e quindi quando devi costruire costruzione linea sky consumi 20-25 meno funibile perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare un paesaggio per stare acqua e le rompere le rocce e allora per costruire questa strada sono necessari i soliti supporti con un binario di fune per viaggiare su sei trasporti e fornire servizi di consegna con trasporto più veloce. Allora esistono tre tipi di fune, ridici, semiridici e elastici ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. E allora come sappiamo quando un auto accederà la velocità si deve fare i conti con il frusto d'aria in arrivo e si chiama resistenza aerodinamica. Il nostro sky transport è mille volte più resistente, più facile da gestire grazie allo scappo affilato e in grado di raggiungere velocità di 500 km per ora. In pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria. Per i molti servizi più necessari per noi possiamo utilizzare questa possibilità avendo questo trasporto. e sappiamo che le strade sono congestionate da auto per oggi, però il trasporto di futuro presenta e ci offre molto opportunità e lo sviluppo e accelare il nostro tempo della nostra vita e andare sempre avanti. Abbiamo trasporti urbani che possono raggiungere velocità 150 km e spostare da 6-8 persone e con la sua produttività 50.000 passeggeri al giorno. Abbiamo una molto grande cifra e allora abbiamo anche i merci, il trasporto urbano, i merci, ancora. e allora sappiamo che le strade sono congestionate da auto che con la loro emissione possono causare inquinamento e molto malattie. purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere un atto legge sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa molto incidente. negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa molte malattie e incidenti negli anni 70 questo trasporto che esisteva causava problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 il signor Anatoly Uneschi ha scienziato allora ha scienziato il mentore proteggista di navi volati presento suo primo articolo scientifico dopo 5 anni di ricerca sull'atmosfera e dopo 5 anni allora che in 5 anni l'atmosfera è stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe la circolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione esiste. La circolazione ha causato a decenni problemi, strada sovrappolata, mancanza di sicurezza e dispendio di energia colossale e questo successo quindi per i propri interessi e propri obiettivi umani, umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi stiamo abbattendo foreste, prosciutando i pazienti idrici, distruggendo montagne e sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali il trasporto è il motivo per cui il trasporto è il trasporto necessario per richiesto nella storia dell'esistenza umana c'è anche allora ci sono anche i tipi di trasporto per oggi che in pratica sono realizzati in Dubai Emirati Arabi Uniti per la Russia cittadino Maria Gorka ogni partner della società Sky World Community sta in una posizione di interdizia qui è possibile firmare un successore e anche ricevere e tra le aggiuntive dal programma di partnership di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati il faccio della nostra azienda sta nel fatto che è una forte riunione delle persone con gli obiettivi e valori comuni i rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che oggi è diventato un testo irreversibile e di cui parlano progetti già realizzati, pianificati e firmati e abbiamo anche Città Lineale un progetto realizzato dove la natura è molto chiara è molto utile per la salute umana e allora allora c'è anche un libro da uneschi.engineer dove può vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 40 anni di duro lavoro di signor Anato Iunezchi a quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro e ora quando colleghi con noi e registri nella nostra azienda il tuo profitto è i ratei dividenti a quattro anni da programma partner l'ereditarietà a disposizione sulla restituzione del denaro di venti con proprietario tecnologie che partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia con un finale troppo e crei capitali per una vita espensiarata alla possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai ad estato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale e personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per da soli 1.000 dollari cosa non che non avrei potuto fare nella vita reale cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra ogni quanti anni potrei risparmiare così tanto che per me che l'azienda skyward community è diventata il senso il supporto della mia vita la cosa che è importante per te è importante che il trasporto che ci sia che esiste davvero e reale puoi visitare toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso e non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti e l'ecotecnopark è stato realizzato in città di in Bella Russia nella città di Marina Gorka e negli Emirati Arabi Uniti in particolare nella città di Sharjah nel centro di innovazione intorno all'Università americana dove è già possibile visitarli e allora all'Università americana negli Emirati Arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per quindici chilometri intorno questo a questa distanza comprende 21 stazioni ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto linea stringa del futuro e allora per me personalmente per e per i molti partner è diventato ancora più credibile che Italia sia tra i 200 paesi partner ora ti dico da dove prendiamo i nostri benefici e allora il 32 per cento della quota del valore di tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare proprietari di tecnologie innovative e la società Skyward Community era registrata in Inglaterra su Isola Vergini come società europea nel 2014 e pertanto i diritti del single o partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi ad oggi abbiamo già completato quattordicesima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla prima fase già quest'anno la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato tecnologie delle stringhe UNESCO e Strict Technology così si pronuncia e ora parleremo sui pacchetti azionari allora pacchetti azionari partono da 250 dollari fino a 150 mila dollari a seconda dell'interesse degli azionisti un rappresentante di qualsiasi classe può investire è possibile usufruire di rate interne a tasto zero sul pacchetto azionario e non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni e punisci subito al tuo incontro il link di registrazione o fissa un incontro per darti le risposte più specifiche che ti interessa eh nella direzione che ti interessa e allora l'azienda sulla tua pagina anche eh è disponibile sempre offerte specializzate dove puoi creare capitali per i tuoi bimbi eh per la tua famiglia per la sua famiglia eh eccetera e dopo completare verificazione ti aprono anche tutti i tuoi diritti eh d'accordo con la legislazione europeo e dopo hm il completamento della fase si sta già spostando eh sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei vittividenti questo è la nostra possibilità di avere una vita allora molto maggiore e il trasporto che è insicuro che esiste questo è una grande gioia e sperando in un futuro migliore io credo sicuro che questo progetto si realizzerà dappertutto sulla nostra terra e sulla nostra pianeta e luci di skyway luci blu e questo significa che il nostro salute e lunghezza di vita migliorerà abbastanza e cambierà cambieranno molte cose a maggior parte il trasporto esiste davvero si adatta a tutte le condizioni eh climatiche e il suo corpo e resistenze alle radiazioni converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità ah e e può letteralmente servici senza sosta e muoversi ad alta velocità e ciò che è importante per te ma alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale unico e senza precedenti e cambiare la tua vita in meglio skyway è un porto unico che salverà la vita a milioni di persone centinaia di migliaia anche di ettari di paesaggi miliardi di animali e uccelli e permetterà loro a ciascuno e e anche eh vorrei dirvi che eh l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea ecco diamo tutti i diritti eh eh tutti i diritti del comproprietario allora questo è un grande conforto per noi eh quindi produzione eh produttore e creatore il signor Anatoio Uneschi eh presenta una relazione annuale sul lavoro svolto e la nostra azienda ha una disposizione del denaro eh si decidi eh allora improvvisamente di lasciare la di offre di aggiungere più quattro per cento a determinare condizione restituire ai tuoi soldi come il maturotario eh tuttavia se qualcuno per caso dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta però quello questo precedente non è stato ancora rilevato è importante una cosa che il trasporto funziona tramite i pannelli solari e anche il suo corpo può conoscere l'energia solare in elettricità e lavorando praticamente senza sosta i termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri altri trasporti esistenti i termini di inquinamento siamo a zero sostante nocive non ci sono non danno per la natura in realtà non esiste i termini incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano in consumo il trasporto marittimo terrestre e aereo e aereo e tutti questi trasporti causano danni di natura e questo è il motivo per creare questo trasporto è anche necessario per oggi allora questo progetto dopo realizzare questo progetto ha soddisfatto tutte le aspettative del signore Antonio Uneschi che ha avuto l'idea di costruire linea città linea altri dove servirà il trasporto sky in linea stritta e i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno preservati questa è sopravvivenza come avete in immagine si mostra chiaramente dove è stato realizzato questo progetto pilota quando è pulita l'atmosfera noi stiamo partecipando a questo progetto perché è innovativo ad alta velocità sicuro e facilmente integrabile e soprattutto ecologico e molto ecologico e molto e ora vi ricorderò i nostri profitti anche non è bisogno diventare stupito un investore solo che basta per te avere maggiori informazioni prima che dove entri conoscere bene questo progetto capire tutti i suoi condizioni desiderare cosa decidi cosa è utile per te penso che trovi tante cose che ti interessa allora il nostro profitto è irate i dividenti guadagni dal programma di partner l'ereditarietà disposizione della restituzione del denaro diventi proprietario tecnologie partecipa partecipa a un programma a un progetto ambientale ampio globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come finaltro poi crei capitali per una vita spensierata la possibilità di viaggiare dappertutto dove voi attestato di formazione in specialità impegnative altamente retribuite e il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e questa gioia è realtà e il trasporto per noi è realtà cioè la nostra verità e quindi a qui parlano progetti già pianificati realizzati e firmati già sono in Indonesia già funziona bene e nella Turchia era firmato un progetto prima che è successo questo terramoto e speriamo che con l'aiuto di questo trasporto restaurano tutto più velocemente e allora mi fa piacere presentarvi questo progetto sperando in un futuro migliore per me tra i transport e questa azienda è diventata un supporto della mia vita quindi che stavo capendo durante il tempo che esistò nella questa azienda la mia gioia cresceva e cresceva e quindi mi sono orgogliosa che mi sono entrata tre anni fa in questa azienda quindi sto creando un futuro con le mie piccole mani per i miei figli e per il loro futuro ho una vita molto comoda e che ci prospetta vita lunga e salute e questo è allora solo una persona diciamo solo io non potrei fare non potrebbe fare sì una cosa così grande però insieme con gente con tutti i investori che vengono anche da paesi eh dagli paesi che in via di sviluppo e anche non sviluppati dappertutto e tutti rappresentanti di 200 paesi si sostengono tecnologie skyway eh sperando creare una vita spensierata che in realtà scherzo e e sperando in questo io mi sono collegata per un progetto così globale così ecologico e economico eh reale cambia la nostra vita eh la mia vita è cambiato tanto eh mi sono diventata un speaker in questa azienda e posso guadagnare posso viaggiare eh posso pensare più avanti e andare più avanti sempre eh abilità svilupparmi e vi auguro provare cercare informazioni avere informazione registrarsi e collegarci con noi e allora questo era società di Units Street Technology eh con le sue offerte e opportunità e sono stato attratto dalla qualifica di leader speaker di questa società grazie per l'attenzione sono Caterina vi saluto da Napoli che sapere segure le sui delle le le sono le pi le